I carabinieri forestali della stazione Parco di Assergi hanno deferito all'autorità giudiziaria una persona intenta alla raccolta di genepi appenninico, una specie particolarmente rara. È accaduto in località Monte Aquila, Campopericoli, all'interno della zona 1 del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L'operazione è stata eseguita nell'ambito delle attività di sorveglianza ed è stata possibile grazie all'attivazione di controlli mirati alta quota su coloro che frequentano le aree montane e le quote più alte del massiccio del Gran Sasso. I servizi sono definiti appunto d'alta quota, consistono nella presenza continuativa e costante a presidio delle aree interne. In quest'ottica, per una maggiore sicurezza dei frequentatori della montagna, ogni fine settimana una pattuglia di carabinieri forestali sarà reperibile presso il rifugio Garibaldi, messo a disposizione dalla sezione CAI dell'Aquila per supportare gli escursionisti che avessero necessità di informazioni, assistenza e che volessero fare segnalazioni su situazioni riscontrate. L'attività in quota sta portando i suoi frutti sia in termini repressivi che di segnalazione, infatti è proprio grazie a ciò che si è anche provveduto a segnalare il fatto che un fulmine qualche giorno fa ha colpito in pieno danneggiandolo alla piramide Martinori poco distante dal rifugio Garibaldi. Ci auguriamo che la stagione estiva sia un'occasione per molti frequentatori di godere di questi luoghi unici e preziosi, ha dichiarato il presidente del parco Tommaso Navarra e mi congratulo con l'iniziativa dei carabinieri forestali volta ad aumentare la sicurezza di tutti e la protezione di quanto questo territorio conserva.